qua in garage mettila in garage che è meglio mettila in garage vai ma se lui è venuto su bello tranquillo si muove da lì no no adesso senti casino ha visto la zampa è rimasto è rimasto giocato è pericoloso è il garage hanno fatto anche cosa andò sul tetto non vedi la scaletta per andare sul tetto perché cade questo qui ragazzi ai tempi era bellissimo vieni a vedere che bella vieni a vedere che non l'hai vista guardala eh vabbè gli abbiamo già fatto il video va che bella ho messa lì nell'angolino mica che la schisciamo ma che bella che è rintanata zampa questo